Potrebbe essere l'ex campo scuola a ospitare la nuova edizione del carnevale rettino dell'Orciolaia. L'area, ormai in disuso in attesa che venga realizzata la famosa ed attesa rotatoria di via Fiorentina, è la maggiore candidata a ospitare l'edizione 2017 del carnevale ormai alle porte. Con piccoli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza sarebbe subito pronta senza creare particolari disagi. Secondo quanto trapela dagli organizzatori non ci sarà purtroppo il carro politico, la macchina organizzativa e creativa del carnevale è sempre in mano ai veterani e senza giovani questa tradizione rischierà ben presto di sparire. Quest'anno purtroppo non si farà, quest'anno non si fa il trombolino, non ci sono le forze di poterlo fare. Il carnevale è ridotto? No, il carnevale è sempre quello, soltanto non c'è. Seppure avevamo già l'idea e avevamo le strutture di poterlo fare, però purtroppo quest'anno non c'è la mano d'opera di poterlo fare. Peccato però che non c'è la mano d'opera. È peccato, ma allora se non vengono la prende e non c'è. Io le cancello e le lascio aperte, ma non viene nessuno. Perché questi giovani non vengono, secondo lei? Ma non sono attratti, ma vedo che anche gli altri carnevali soffrono di questa... Magari in Sofogliano c'è una concorrenza tra di loro, è probabile che sia quello dello spirito. Ma qui c'era stata un'impronta una volta qualche anno di fare una concorrenza con le porte, fu detto, con le quattro porte, ma poi credo che non fu... Quindi quando voi per un motivo o per un altro non lo potrete più fare, che succede a questo carnevalo? Ma spero che qualcuno si faccia avanti. Due, 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 intorno a 50 anni poco più ci sono. 50 anni, loro hanno cominciato a venire, pare che avevano 30 anni sì e no. Ma come ripeto, è sacrificio perché i giovani, come anche in tutte le altre cose, si presentano poco.